Una piccola provocazione in fondo, no? Una piccola impresa meridionale, credo un'idea geniale. La voglia di accostare queste due parole, impresa e meridionale, che è... Il mio personaggio si chiama Arturo ed è un pianista, un musicista. Quando volete! Dai! Chi è l'amante di mia sorella? Od veicera do rana muzika nami grāva, a ja pijem, 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 len z plneho pohara. Od veicera do rana muzika nami grāva, a ja pijem, 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 len z plneho pohara. Od veicera do rana muzika nami grāva, a ja pijem, 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 pijem. Ehi, boss! Era una fiammata questa! Scusate se mi permetto, però voi una grande risorsa ce l'avete. il faro? Qua con una bella ristrutturazione viene un posto meraviglioso, un albergo particolare, no? Ma... mi so spredato. NOOOOO! Stop! Stop! Quando lui mi ha cercato io ero strafelice. Rocco si è presentato con un sacco di doti, nel senso che mi ha dato una serie di fari, di strumenti, che poi insieme abbiamo rimesso in ordine cercando di delineare il percorso di Arturo. È una persona molto sincera, molto diretta. Ma basta questo fatto che lo sopprete, eh? Voi fate una cazzata e poi... Ho capito, ma io mica lo sapevo. Tiriamo, grazie! Set! Per far vedere la dimostrazione. Mettila tu. Poi perché ho le lentine marroni. E non c'è i capelli perché Rocco me la fate togliere. Guarda qua. I dentici. Senti, ho capito! Stop! Eh stop, Rocco! Ciao! Ciao! Grazie. Grazie.